Diario Algaresde, tutti i miei pensamenti di Francesca e Masia Se l'uso alloggi, se fossi a Stazzi, Benzi e Munera Si arriva a Stati, un mese ricchi della terra Buongiorno, ben trovati a voi, 23 di giugno 2023 Sarurini, dosi ascoltarossi di CatalanTV e Facebook Do Santi del Dìa, Santi Lanfranchi Beccari, Bisba di Pavia, nasce e mori al secolo XII a Pavia Amabra, ammaragente, ammaragente buona, ma energica ammaragente mara Da Svenza, lo sdrezzi dell'Iglesia, per questo motivo Ve odiati dei consuls che governavano Pavia Desce alla sua tattima, per l'odica e rassiva, si va a Roma Rattone e si rattire nel monastero, o non agli mori Si racconiscono al manco 40 miracoli o brazzi del Santo Luca re di Bonaria, anche il re del Bisba, via Principo Umberto Al carri si trova, l'operao del Bisba del secolo XIV al 1875 Riedificati e angranditi del Bisba Gioacchino Domenico Radicati All'auli era la casa della famiglia Maschin Algun si ha tolto la che era in casa di Sdoria La realtà è che la casa aveva costruito al secolo XVI Una stile romanica rinascimentale, mentre gli Sdoria avevano lasciato la città al 1353 Chi era l'Ambrogio Maschin? Algares, deparò Algares in Mara Sassareza al 1621 consacrato Bisba del Rallier L'anno d'aspresso vuole che i genitori abitessero a Mael Acostato si trova l'operao dell'orfanotrofe di Ocesà che una volta era proprietà del Marichese Pes di San Vittorio Passara da spresa alla famiglia dei barons di Gioacchino Don Claudio, giarmato del baron Matteo Era un vero ufficiale di cavalleria Ascine la villa civile aveva continuato Anna a cavallo Girava per la suittà di Cavalcanti E si divertiva a montare e davaliare le carine di Santa Maria e del teatro civico Durante una di queste esibizioni Da sgrassiattamente si era fatti male Si è truncato un'anca Gli escieri erano stati troppo per sempre All'angolo del carriere di Ramalcetti Gli era il laboratorio del Mestre di Nenia Giuseppe Balzani Ha girato Giuseppe Balzani Gran artista nel costruire mobri per arredamenti A questa parte del carriere era girato il carriere del Ascara House Ascara House La poesia raccolta di molti e di acqua Alguassarina Da sottunata sangiuria di Raffaicaria Ma sottunata sangiuria di Raffaicaria No creguis che non hagi antes lo sorriso di rassullas Che i murmuranti di rama in rama davallan sopra lo mio coso Per raccordarmi che sono rastati soli a respirar lo rugo della terra E lo profondi e lo profondi le ondas del mar Raccordas quante cariciose racamavas De ombra lo sopiti Graniti e mugrons Des quali è mamato lo dolce e mutati gusti della vita E ora... Deci che marromi Entra questi raccolti profumati di multa e di acqua salina La carriera Malset via Roma 1912-1920 Lì era un teatro di Magliuretus All'alto della botiga dei Fisiomarras Los Magliuretus Magliuretus Stavano ad amonti di un gran bancho di linea E si amolevano grazie a un congenio meccanico Erano dividiti per amprei Alcuni si lavoravano a gruppi E altri per conto proprio Lo sabati per a sabattas Lo friariaggio bativa il ferro Ad amonti dell'ancruzza sempre Mentre lo galzò agiva alla mancia Altri si lavoravano il ram Los panateri affunavano il pa Il pa il ful Un frara e un campanaro Alla campana Un mestre di paretta Un mestre di niente Un mestre di niente Un mestre di niente Un mestre di niente Un soldato Favava la guardia Era caselma In tutti Puriva essere Una sessantina De Magliuretus Offrivano un spettacolo di valventi Per partizzi Ma anche per grandi Perché il spettacolo durava Un quale ora E per entrata pagava Vinti centemus Ratona la decatorze edizio del festival della canzone algaresa Dopo 30 anni L'espettacolo il qual è L'1 e il 2 di giugno del 2023 Arras 8 e mezza di Natalda Los billetes Sono a vendita A tutti per la musica Carrè dello Frasso Deu Una gran oportunità Pelos joves cantanti Cantatori Aigaresos Parabas della nostra lingua Rutina Anitaria Dottrina Ideas 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 di una persona O di una gruppazione Che formano una teoria Organnica Uldanara Sascriu Rutina E saligi Rutina Faterelli di vita marinara dell'amiral Vittorio Guiò La democrazia per gli altri Anzi fa imbalcati in una nuova mercantina Ma vi ha portati fino ad Alaska O Nolulu In Panama In Panama Si sono affermati mesi di vinti dias Per una avaria al motor Quindi con alcuni amici E un missionario Che ben conosceva la region Erano nati all'interno della foresta del Darien Un viaggio Dos dias E due nizze Arribati a un punto Conoscevamo un attributo dei nati Assai gentili Dei quali tantas cose eravivano imparate Musene Randizzi Conta che se potessero democratici In modo diverso del nostro Si diventavano consigliersi del capifamiglia Quando si arrivava alla maturità sessuale La giovanita si diventavano Desprese di una seconda mestruazione Senti che lo senso del pudor Era assai diverso del nostro La giovanita Se erano consiglieri di ramare Aggiornare le cose di casa E nella coltivazione di particolari verdure La capifamiglia Feva parte del Consiglio delle Anzianze Che leggeva il capifamiglia Quando il predecessore Moriva O dava segnali di demenza Lo consiglio di Siriva Della questione della vita collettiva L'inizio della cassa Della pesca O spostamenti del viraggio Si arronivano Quando il capifamiglia Ancora cambi di stagione Secondo le diverse posizioni del sol Tutto a voi Madame Ansia Che il tipo di governo Non rispondesse A un'effettiva forma Di democrazia Adatta A una cultura In la necessità Di quegli agenti E che Senso puriva Trenda Con diversamente L'havia voluto Calchi illuminati Progressi La democrazia Euroamericana Fondata Da monti De spaltizi Sindacati Leis elettorali Sistema Maggiuritario O proporzionale Etcetera Etcetera Ma stanno Niente Rando conto Che Volem Aspoltare I nostri Modellos De società Capitalismo Etcetera Etcetera De fete S'alcente Attuare Un disumare Colonialismo Cultural Che Senso te Ampondra Un pensamento Unico Un modello De società Internazionale Se Lus populs De la terra Per esigenza Ligare Ambiente Natural Sono assi diversos Entra Elus Ovviamente Ma da man Sino Sigi També Un'arrogante Illusio Pensacca Que Sistema Politico Sigi L'unico Valido E L'intera Umanità E Per sempre Cisto Salgarese De Cirofada Casanova Cognon Che Probabilmente A motivo Del famoso Casanova Si è trasformato In Cisto Casanova Ringrazio A Moseura Tira Una volta Due Giuretas Un Iri Avui Un Condens A Ma Gran Felicità E E E Grazie a tutti